L'unione fa la forza e il resto lo fa la qualità dei prodotti e la passione. La collaborazione tra le aziende Torre di Mezzo e Fattoria della Piana ha reso possibile la produzione dell'unico latte fresco alta qualità 100% calabrese. Quando tra due aziende si collabora in maniera franca, sincera, trasparente, si fanno delle belle cose. Oggi tra l'altro lanciamo una nuova confezione di latte fresco alta qualità in litro PET. E' l'unico oramai latte, il Torre di Mezzo, interamente calabrese fresco di alta qualità. La Calabria Buona si muove e lo fa attraverso tutti i passaggi che coinvolgono la produzione, dalla coltivazione dei terreni per i foraggi alla stalla sino alla lavorazione del latte. E' una filiera 100% calabrese, quindi in un prodotto fresco di alta qualità è importante anche questo, perché non facciamo viaggiare molto la merce che arriva da fuori. Quindi questo sicuramente è un punto a favore per noi e una tranquillità maggiore per i nostri consumatori. Tante le prossime sfide che attendono le due aziende calabresi e tra queste, perché no, il riconoscimento europeo. Naturalmente il riconoscimento può essere una giusta ambizione, io ripeto, spesso i nostri produttori devono avere l'ambizione della qualità e il riconoscimento è una certificazione di qualità. Una filiera interamente calabrese nella quale dai foraggi fino alla fine della produzione tutto rimanga in Calabria e credo che possa ambire legittimamente ad un riconoscimento e noi saremo sostenitori di questo percorso.